Nome. Dan Corl. Soprannome. Candyman. Numero vittime. 10 accertate. Modus operandi. Strangolamento e mutilazioni. Dan Corl nasce il 24 dicembre del 1939, a Fort Wayne, nell'Indiana. Quello dei suoi genitori non è un matrimonio felice, i due divorziano quando Dan ha appena 6 anni. Nel 1950, i Corl decidono di mettersi nuovamente insieme, così l'intera familiola si trasferisce a Houston, nel Texas. La felicità familiare ritrovata non dura molto, nel 1952, i genitori di Corl divorziano nuovamente. Mentre i problemi familiari si evolvono, a Dan viene diagnosticato un soffio al cuore che spezza tutti i suoi sogni di gloria sportivi. Il ragazzo non si perde d'animo e dirotta i propri interessi sulla musica, fino a diventare il suonatore di trombone nell'orchestra del liceo. Nel 1957, la madre Mary si inventa un business dal nulla, impasta e cucina dei dolci alle noci, poi li mette in vendita. Dan la aiuta, raccogliendo le noci e consegnando a domicilio i dolci. Il giovane Corl è educato con tutti i clienti, gentile, comprensivo e affettuoso con i bambini. Ben presto ha abbastanza soldi per costruirsi un appartamento sopra il garage pasticceria. Nel nuovo territorio ci sono molti bambini, ai quali Dan è solito regalare dei dolcetti. Oramai è per tutti il buono e generoso Candyman. Nel 1968, Mary esce malamente dal quarto matrimonio ed è costretta a chiudere la fabbrica di dolci. Con il business dei dolciumi uscito dalla sua vita, Dan si concentra totalmente nella carriera di elettricista. Nel 1970, Dan conosce un certo David Brooks. David Brooks è nato nel 1955 a Beaumont, nel Texas. In quel periodo David ha conosciuto Dan, che lo ha trasformato nel proprio schiavo sessuale a pagamento. L'influenza di Corl su David è tale che, qualche anno dopo, riesce a fargli abbandonare definitivamente la scuola. David Brooks presenta a Dan un certo Vaine e lei. Vaine è un quattordicenne brufoloso, disinteressato dallo studio e con problemi di psicolismo. Il trio letale è dunque formato, e difficilmente David, Vaine e Dan si separeranno in futuro. I due ragazzi dormono spesso in casa di Dan, oppure vanno a spasso con lui sul suo furgone. I tre si recano nei luoghi di ritrovo degli altri adolescenti, si comportano come grandi amici, anche se tra di loro ci sono circa 15 anni di differenza. Il 29 maggio 1971, il tredicenne David Illigest ed il suo amico sedicenne Gregori ma lei vincle non tornano a casa. Erano andati a fare un bagno alla piscina del quartiere. Nei giorni seguenti, alcuni amici dei due ragazzi scomparsi raccontano di aver visto David e Gregori salire a bordo di un furgone bianco. Il 17 agosto, Ruben Watson, 17 anni, esce di casa per andare al cinema. Promette alla mamma e alla nonna di tornare entro le 19 e 30, ma non tornerà mai più. 24 marzo 1972, Frank Aguirre esce con gli amici. Ha promesso di tornare a casa entro le 22. Ronda, la ragazza che Frank dovrebbe passare a prendere con la macchina, lo attende in vano tutta la sera. Qualche mese più tardi, mentre è al ristorante con dei suoi amici, Ronda viene avvicinata da Vaine e lei. Il ragazzo la porta in disparte e le annuncia che Frank non tornerà mai più, si è messo nei guai con una piccola gang mafiosa ed è stato punito. Nel giro di un anno sono dunque scomparsi quattro ragazzi dallo stesso quartiere, dallo stesso gruppo di amici. Svaniti senza lasciare nessuna traccia. I genitori sono certi che non si tratta di fughe ma per la polizia sì. Il 21 maggio 1972, il sedicenne Johnny De Lome scompare insieme al suo amico 17enne Billy Boulge. A tre giorni dalla loro scomparsa, il signor Boulge riceve una lettera scritta dal figlio nella quale lo rassicurava che stava lavorando come camionista presso una tratta tra Houston e Washington ma suo padre era un camionista. E sapeva che quella tratta non esisteva. La grafia è chiaramente quella del loro figlio scomparso, ma la lettera è troppo fredda e professionale, sembra dettata. Dopo aver riflettuto a lungo sulle conoscenze dei loro figli, entrambe le famiglie giungono alla conclusione che David Brooks potrebbe centrare con la scomparsa dei loro ragazzi, il giovane David tempo prima ha provato a vendere loro della droga. I Boulge ricordano inoltre che tutto quel gruppetto di adolescenti era solito passare giornate intere a casa di un certo Dan Corl. Decisi di andare fino in fondo alla faccenda, i genitori di Johnny e Billy si presentano alla ex pasticceria Corl. Dan, molto gentilmente, spiega loro che non vede i ragazzi da diversi giorni ed è a sua volta preoccupato. Intanto Thomas comparve nel nulla. La mattina dell'8 agosto 1973, Vaine Henley e Tim Kerley lasciano casa Corl e vanno a trovare Ronda, che nel frattempo è diventata la migliore amica di Vaine. Faccia da bambina e corpo di donna, la giovane Ronda Williams non se la passa molto bene, sua madre è morta da qualche anno e suo padre è un uomo alcolizzato e violento. Fuggiti attraverso una finestra con il favore delle tenebre, Ronda, Vaine e Tim si danno alla pazza gioia per qualche ora poi, ubriachi fradici, si incamminano verso la casa di Corl. Nonostante Ronda gli stia molto a cuore, il giovane Henley non ha idea del pericolo in cui la sta cacciando portandola in quel posto, soprattutto senza il permesso di Corl. I tre adolescenti arrivano alla casa di Dan Corl alle 3 del mattino. Appena si accorge dell'inaspettata ospite, l'uomo si infervora e comincia a urlare contro i due ragazzi, per poi calmarsi improvvisamente, al punto di proporre una festicciola. Così, tra una canna e una birra, il gruppetto si scatena a lungo, fino a quando sprofondano tutti in un sonno pesante. Il risveglio di Vaine non è dei migliori, il ragazzo si accorge subito di avere i polsi ammanettati, mentre le sue caviglie sono ben legate. Grazie all'esperienza maturata in quel periodo, il giovane sa bene che lo attendono di lì a poco delle dolorose torture e una morte liberatrice. Dall'altra parte della stanza, Tim e Ronda giacciono a terra, denudati e legati. Del nastro isolante serra la loro bocca. Il serial killer strillò. Vi ucciderò tutti. Ma prima voglio divertirmi un po'. Corl liberò Vaine poiché quest'ultimo accetto di aiutarlo a torturare la ragazza e Tim. Corl conduce Tim e Ronda in una delle camere dal letto, quella dove ha installato il suo asse di compensato per le torture. Dopo aver sistemato i due ragazzi sull'asse, Dan rimuove il nastro dalla loro bocca e invita Vaine a strappare i vestiti della ragazza con il pugnale. Mentre il giovane Henley si piega per visbigliare nell'orecchio di Ronda che tra poco sarà tutto finito, Corl cerca in tutti i modi di stuprare Tim, ma senza riuscirvi. Il ragazzo è molto forte e si dibatte come un forsennato, resistendo così ad ogni assalto del pasticcere perverso. È a questo punto che, furibondo e frustrato, Dan Corl volta la testa verso Vaine e si accorge di aver la pistola puntata alla testa. Il 9 agosto Vaine chiamò la polizia fornendo l'indirizzo dell'abitazione. Così gli agenti ci andarono. Il 33enne elettricista è stato colpito a morte da sei proiettili, che gli si sono conficcati nella testa, nel torace e nella spalla. Il suo corpo viene spedito all'obitorio, mentre i tre adolescenti vengono condotti alla centrale per l'interrogatorio di rito. Secondo i vicini di casa, Corl era una persona tranquilla e insospettabile. Alla centrale di polizia, Vaine vuota subito il sacco, Dan era un uomo sessuale con tendenze pedofile. Lui, Tim e altri amici fidati erano pagati per procurargli delle giovani vittime, che Corl se viziava e uccideva, per poi seppellirle in una rimessa per barche. Gli investigatori decidono di seguire Vaine e Henley presso la rimessa per barche dove, secondo il ragazzo, Dan Corl avrebbe seppellito almeno tre delle sue vittime. Gli uomini cominciano a scavare e affiora un sacco di plastica trasparente. Al suo interno c'è il corpo nudo di un ragazzino che dimostra circa 13 anni. Sotto il corpo del ragazzino viene trovato uno scheletro. Perpendicolarmente allo scheletro ci sono i resti putrescenti di altri due adolescenti. Allo scoccare della mezzanotte i corpi recuperati sono otto. A due giorni dall'inizio delle investigazioni, grazie agli scavi nella rimessa, il conto delle vittime ammonta già a 17. Quando Henley indica altri due luoghi di sepoltura, i cadaveri disseppelliti arrivano a quota 27. I due ragazzi verranno condannati all'ergastolo l'omicidio di Corl.